Avola, una marcia per gridare no alla violenza sulle donne, sindaco Cannata, promuovere cultura e rispetto della difesa della libertà. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la città di Avola si stringe attorno a un messaggio di speranza, rispetto e libertà attraverso una serie di iniziative organizzate dall'amministrazione comunale in collaborazione con il centro antiviolenza Doride, scuole, associazioni e cittadini. La giornata si è aperta con l'emozionante allestimento del piccolo posto occupato alla biblioteca bianca, realizzato insieme a bambine dell'infanzia e del sacro cuore dell'associazione Inner Will. Un simbolo che ricorda tutte le donne vittime di femminicidi e loro figli, impreziosito dalla donazione di una mongolfiera, segno di speranza, verso un futuro senza violenza. In risere inoltre i monumenti di Avola sono tinti di rosso, il colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, per tenere viva la memoria di chi non c'è più e per sensibilizzare la cittadinanza sull'urgenza di un cambiamento culturale. Lungo tutta la settimana si sono alternati laboratori e dibatti di iniziative promosse dall'amministrazione comunale assieme al centro antiviolenza Doride guidata dalla presidente Atea Romano e si continuerà a coinvolgere scuole e associazioni offrendo spunti di riflessione e strumenti per contrastare la violenza di genere.